Ciao a tutti, sono Narotus, bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui su TheBunnyGoVisacAfterBot, andiamo a fare una nuova partita dopo tantissimo tempo, voglio fare una partita in grid mode e levare il mouse dalle palle, e pensavo di utilizzare... boh, chi ci pare? Possiamo fare... Lazaro? Possiamo fare... Kane? Blue Baby? E va... Facciamo Kane, così a caso... whoops, ho sbagliato... Kane in grid mode, ok. Ok, tanto tempo che non gioco, tante cose da dire, ho attivato l'add, e il seed per questa partita è NA6KVA6E, stavolta credo ve l'ho letto correttamente, primo oggetto, o Pageant Boy, che non mi interessa più tanto, o Speed Damage Up, esatto, preferisco prendere Speed Damage Up, dato che, secondo me è fondamentale, nelle prime ondate, nel primo piano, ottenere qualcosa che o aumenti il danno, o aumenti... e parto con una chiave, cosa posso decidere di più? Ah, questo è quello che impicciolisce i nemici, non è proprio al massimo, però, vediamo... God's Flesh, il corpo di Cristo, in pratica, il corpo di Dio, le carni di Dio... Ehm, va bene, come volete... Quello che volevo dire, secondo me è importante, appunto, ottenere un danno, una rate of fire più alta all'inizio, perché permette di levarsi dalle scatole più velocemente le prime ondate, cioè andando avanti, in grid mode, si dà abbastanza per scontato di avere una certa potenza, una certa capacità di... Ehm... Cioè, che permette di eliminare le ondate più velocemente rispetto ad altre. Ora, qua, avendo solo, qua sono 6 secondi per eliminare tutte le ondate, come vedete, sono già al limite, e in pratica gli one shot, quasi. Quindi, non è proprio... Ad esempio, si rischierebbe, come vedete in questo caso, di trovarsi circondati da tanti nemici, come vedete, ho ucciso un nemico di tutti quelli spawnati, e... e sono già all'ondata successiva. Quindi mi piace tenere un rate of fire up, oppure un damage up, subito, appena piano. Pejan Boy avrebbe dovuto solo spawnarci monete, se non sbaglio, non volete una cazzata. Forse avrebbe comportato anche un luck up, però non... Preferisco così, forse, a meno che abbia fatto una cazzata, quello fosse un oggetto fondamentale in grid mode, dato che forse è connesso i soldi. Ok. Non è bastato prendere un damage up, a quanto pare, a risolvere i miei problemi. Non so come ho fatto a non prendere danno, ci sono proprio stati in mezzo. Comunque, invece di perderci nella descrizione di quello che state vedendo, che tutto sommato lo state vedendo, quindi suppongo che voi abbiate gli occhi e possiate capire quello che vediate, preferisco... Wow. Preferisco... No, preferisco niente, devo concentrarmi, datemi un secondo. È un inferno, non so come io abbia fatto a non prendere danno finora. Quindi ciò, preferisco concentrarmi... Non concentrarmi, preferisco dire... qualcos'altro, dato che è tantissimo che non registro video, ve ne sarete accorti. Anche se un po' di video ogni tanto ce l'avete sempre avuti, forse c'è stata una pausa di tre giorni con la più lunga, o comunque i video che state vedendo sono repliche del Jackass, quindi in realtà per chi segue in Glitchers pre-show, ovvero ogni lunedì sera dalle nove in poi, uno show con altri canali amici su Twitch, dove facciamo vari giochi, tra cui il primo è Isaac, quindi se vi piace Isaac fate un salto, lo vedete in live, potete interagire con noi. Non mi dispiace le mosche, se devo essere sincero. Facciamo le mosche, facciamo così e fidiamoci le mosche. Non è proprio il top, ma non è neanche l'ultimo degli ultimi come oggetti. Per ora teniamolo come oggetto attivo, poi magari troviamo l'oggetto perfetto e queste sono 15 monete specate. Non era un grande show, ecco. Sono successe tante cose, innanzitutto volevo appunto scusarmi con voi per la mancanza di video che c'è stata in questo periodo, e non posso farci niente purtroppo. Cioè in realtà sì, potrei farcelo, però se... Cioè il tempo per registrare volendo ce l'ho, però se registrassi sempre non sarebbe un prodotto magari di particolare qualità, non che io stia dicendo che magari questo registrato dopo tanto tempo sia un prodotto di qualità. Anzi, forse perdo anche un po' la capacità di riuscire a tenere i tempi del video, nel senso a parlare, a fare due chiacchiere, che magari riuscirei a tenere di più se facessi video continuamente. Però sicuramente non sarebbero video spontanei, nel senso qui adesso avevo voglia di fare un video, avevo voglia di parlare con voi, avevo voglia di registrare. Se avessi fatto in altre situazioni sarebbe stato, ok, devo fare un video perché non ne ho. E sarebbe stata, non dico una costrizione, però non sarebbe stato proprio il massimo. Allora, vabbè, stiamoci un attimo così. Moschine mie, pensateci voi. Sì, non siete servite molto, se devo essere sincero. Quel monstro lì spara solo e non salta, se così fosse, ottimo, perché io sto qua a massacrare Larry Jr. E poi, ah no, salta, salta, bastardo. Sarà un attimo incantato. No problemi, in ogni caso. Comunque, Larry Jr. è finito. Niente, semplicemente, oggi volevo registrare. Potrei darvi video più spesso, ma non sarebbero, secondo me, video adeguati, video in cui ho davvero voglia. Avevo anche, ad esempio... Uhuhu. Uhuhu. Mi lanciate un Abaddon così subito, che dovrebbe essere un damage up, mi sostituisce due cuori con cuori grigi. Peccato perché ci fosse stato un oggetto passivo da un cuore, l'avevi preso e poi l'avevi preso Abaddon. Beh, non ce la mettiamo. Evil più damage up, più fear shot. Ah, un 2.17 di damage, eh, comunque. Eeeh, sono estremamente veloce. Eeeh, 12 monete, ho solo cuori neri, quindi non so se entra nella cursor, però magari c'è qualcosa di valido. E ci prendiamo un cuore nero. Eeeh, The Magician, non è particolarmente valido. Addio cuore nero. Facciamo così, prendo la chiave per il prossimo piano così ho un oggetto in più, e 5 che è il cuore grigio. E andiamo giù. Non sembra ci fosse una roccia tinta, ma proprio è stato... Ah, no, neanche bombe, quindi. Vedo questo, questa è la situazione video. Faccio del mio meglio, purtroppo è una situazione brutta con gli esami. Eeeh, non brutta perché non riesco a darli, ma brutta perché voglio darli tutti subito. Che è, diciamo, una prospettiva a lungo termine. Se riesco a dare tutto subito, magari mi godo di più. Eh, le... Che palle... Le... Le vacanze estive, ho più tempo per fare cose, a settembre magari non le devo dare. Luck up. One max view larger, che non mi piace. Bad trip, che mi piace ancora meno. Health up, che mi piace. Dato che Abaddon non ci impedisce di avere vita rossa. E dato che c'è un cuore rosso, mezzo qua. Oggetti non particolarmente interessanti, anche se le bombe in realtà sono interessanti. Anche se sono stato stupido, dovevo prima entrare qua, usare la chiave per ottenerne due. Quindi due chiavi per cinque monete? In teoria, sì. Eeeh, lo facciamo allora. Le bombe in realtà potrebbero servire in grid mode, perché con le bombe puoi rirollare gli oggetti. Boh, vedremo. Intanto... Ups, io userei un magician. Qua, per le ondate. Sì, e rimaniamo qua fino alla fine? Fino a... Satana? Sì, facciamo così. Quindi, le magician. E sono andato a schiantarmi violentemente su un ragno, chiedo scusa. Mezzi danni più stupidi. Se penso che non ho preso danni in tutta la prima ondata, adesso è degenerata malissimo, in cinque secondi. A volte trovo quasi più complessa la... Appunto la prima ondata rispetto a... Cioè il primo piano rispetto al secondo. Forse sto delirando un po'. Comunque, esclusi questi discorsi qua, farò video il prima possibile. Ora ho un esame a settimana che è una cosa impensabile. Non l'ho mai avuta mai, però... Va fatta, preferisco farlo prima piuttosto che dire no, vabbè, me ne tengo per dopo. Leviamoci delle balle e... Vivrò più tranquillo in futuro per poter fare più video tranquillamente. in futuro. Detto questo, punto due, novità, 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 novità. Sto giocando con una cosa un po' nuova. Assieme a tutti i regali di Natale comprando. Cioè no, in realtà non ho avuto particolari regali, però... Chi mi ha fatto regalo per la laurea mi ha regalato una... Carta di Steam. Da spendere su Steam i giochi, sapendo che sono un appassionato dei miei amici. Sono un appassionato, sono un drogato dei acquisti e a basso costo su Steam, in pratica. Ho un range basso? Ho sbaglio. Mi sa di sì. E mi sono... Quindi ringrazio vivamente i miei amici che l'han fatto. Che tra l'altro spesso seguono il canale, quindi davvero grazie di cuore. E sto giocando con lo Steam Controller. Comprato. Non è male, non è male. Mi piace un sacco, l'avevo già provato a casa di Mac una volta. Con Mac mi fresco a Glitcher. Andate a vedere il suo canale, assolutamente. Non sto usando le mosche. E questa è una cosa abbastanza stupida, dato che ho preso l'oggetto da cretino. Vabbè, almeno è già andato. Pip! Bastardo maledetto. Sei già quasi morto, grazie alle mosche. E anche Mams Contact mi ha aiutato, che ti ha frizzato. Però... Beh, di danno te ne faccio. Oh, sì, 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 sì. Vabbè, Mams Contact non è quell'oggetto brutto che pensavo fosse. Mosca, pensaci te da sola a fargli male. No? Sì. Ok. Non tante soldi. Tante soldi. Boh, già che c'è sempre The Magician, facciamoci anche Satana. Sì, ci facciamo anche Satana. Ho deciso. Con le mie due mosche, che... Non sono riusciti neanche a far esplodere la cosa. Ho due De Aska, che dovrebbe morire velocemente, in teoria. E in pratica, in realtà, mi fa più danno a me. Mosca mia. E... Qua ero un po' incastrato. No, sto giocando male. Fatemi concentrare un attimo. Si sente la concentrazione. Ora non mi ricordo più qual è quello che ho fatto più danno. Basta che ne muoia uno. No, troppe cose. Qui ci prendo un altro danno sicuro, se non riesco a liberare la situazione. Comunque, per chi avesse un simicontroller interessato a sapere la configurazione che sto usando, sto usando quella della comunità, la più seguita. E... Tuttavia, nonostante sia possibile usare entrambi i trackpad, chiamiamoli così, per giocare, io uso l'analogico per muovermi e il trackpad per direzionare le lacrime. In teoria sarebbe fatta l'impostazione lì per usare entrambi i trackpad, perché in teoria, avendo più sensibilità, si riesce a controllare di più sia il movimento... Cioè, sarebbe come muoversi e sparare con due mouse. Quindi sarebbe, capite, la sensibilità è decisamente maggiore. Sia la direzione dove lo sparo. Io uso l'analogico per il movimento. Gappi, stelo... E voi? Aia! Eh, allora la devo prendere. A quanto pare, purtroppo, siamo a due oggetti di gappi... Mi manco stretto, in pratica. Ok. Io mi sa che spendo un pochino in due cori grigi. Le bombe le voglio. Non mi dispiace l'idea delle bombe, se devo essere sincero. Perla, solo che per la possibilità di rinrollare. Allora, io prendo questo e poi non ne prendiamo più. Ah, per di più mi ha aggiunto dei... Oh, non ho visto che era una troll bomb! Testa di cazzo. Merda! Non lo permettete? Non vi offendete? Voglio entrare, sì, voglio entrare tanto ormai. Chi non risica una rosca. Oggettone! No, vabbè, però ho tante chiavi e le bombe che cercavo. Quindi potevo venire direttamente qua. Sono una testa di cazzo, vabbè. Basta, ce ne andiamo. Abbiamo fatto già troppi danni su questo piano. Testa di gappi. Mi piace la testa di gappi. Abbiamo 8.40 di danno, quindi le nostre monos che ne fanno... 16-80. E... Non è male. Ogni turno posso usare non è più. E... Non mi piace. Questo oggetto mi fa sparare continuamente. Cioè, mi ha mento all'arito fare, in pratica. Però sparo come Aria Wizard, perennemente. Non mi va ora come ora. HP Up mi va, giusto che per il fatto con Satana già. Anche tenendo conto che manca solo un oggetto di gappi. Quindi siamo interessati. Pandora's Box, non mi ricordo cosa potrebbe darmi. A 9 Volt... A 9 Volt ci farebbe ricaricare più velocemente gli oggetti. Forse in questo caso ci fa ricaricare col tempo la testa di gappi. Non credo. Non credo sia quello che desidero. Speed... Non c'è nessun oggetto che mi ispiri veramente. Forse la Pandora's Box, però... Voglio perdere mezzo cuore entrando, vabbè, chi se ne frega. Va meglio farlo dopo, forse. Vabbè, 3 monete. E usciamo. Abbiamo perso un cuore per niente. Terza di gappi. Ok. Dicevo, quindi sto usando il simcontroller e mi sto trovando bene. Ora non l'ho usato molto perché non ho avuto molto tempo. In ogni caso, oui. Non è una porcata, secondo me. Ci stanno lavorando, aggiornando continuamente il firmware. Il firmware. Oddio, c'è qualche area di troppo per me. E mi è venuto appena venuti in mente qualche simpaticone che... Durante i live di Twitch, chi ci segue, ci arrivano le notifiche, quando riusciamo a vederle. E lo notifichiamo, facciamo shout-out in live. Quindi diciamo, grazie mille per essere iscritto. E uno, se che si è iscritto, si chiamava RRR, simpaticissimo, gentilissimo. C'è un giro onde dell'inferno per quelli come te. E mi ci vedo malissimo. Non è giro onde dell'inferno, qua. Perché devo uccidere quelli dell'ondata dei teschi. Ok, ce l'ho fatta, quanto pare. E hanno i teschi che rompivano le balle. Per il resto credo sia abbastanza gestibile. E ho già poca vita. Potrebbe non andare così bene questa grid, ma della cosa mi fa un pelo incazzare. Perché nell'altro salvataggio, che è vero che ho meno oggetti. Però in teoria gli oggetti che si sblocano dovrebbero essere migliori. Ho ottenuto... Cioè, ho fatto tre grid mode così, a caso, senza neanche pensare che ci trovo. Ho ottenuto cose buone. Pandora Sbox. Stupisciami. Un HP App. Non è proprio quello che desideravo. Mi prendo... Testa di Gappi. Metto quante bombe ho? Quattro. Una bomba qua ce la metto. Figurati se mi impagava. Una bombetta qua... Non di più, però. Buono, buono. Ha ripagato, ma non con le monete. Scemo rientriamo? Mi sa che poi prendo il damage up. Buon, boss. Di nuovo le ask. Solo uno? Perché prima erano due? A volte non capisco. Forse perché i due erano per Satana. Gappi. Quindi niente. Io, cioè, se eravate in dubbio, vi dico... Non vi posso dire l'oggetto della vita. Ma non mi ci sto trovando neanche male. Per di più lo posso usare anche a posto del mouse. Non so, se devo girare col mouse su internet posso usare anche lo simcontroller. Non che preferisca... Cioè, bene o male il mouse è un'altra cosa. Però, per giocare, bloat. Ci mancava del bloat assieme al boss precedente che non sono riuscito a uccidere. Sono incastrato. Bullshit. Bullshit. Non posso andarti sopra. Figlio di puttana. Salta. Salta. Ok. Mi danno tantissimo riuscito a farmelo dare. Potrei morire a meno che io riuscissi a ucciderlo adesso. Non voglio morire, quindi fatemi concentrare. Non mi piace quello che sta succedendo. Se devo essere sincero, eh. No, no, no. Adesso viene su. Dimmi che non ci arriva col bloat, se no sono spacciato. Non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Oh, pietrificarti una volta. Ho due di luck per di più. Neanche bassissimo. 17 monete. 17 monete. Poca vita. Damage up. Mi manca una moneta per prendere anche la vita. Ah. Facciamocela con calma. Prendiamoci questo e poi se riusciamo a ottenere la moneta. A meno che... Tanto non è che si richiude. Una monetina? Una monetina? Una monetina, sì! Tutto calcolato. Quindi shop. Stavo per passare sopra, sarebbe stato il peggior errore della mia vita. Damage più challenge up. 9,58. Va bene. Siamo pronti a battere... Un angelo. Non mi piace. Non mi piacciono gli angeli. Ok. Non sapevo minimamente che mi abbia sparato così. Ok. Te spari a X? Non lo so. Perché poi quando dico sì, questo spara a X, poi mi sparano in un'altra maniera. Io ci vado dietro per sicurezza. Ok. Quando si illuminano le mani non spari a X. È piacere saperlo mentre spari. Adesso spari... Non lo so. Metto a X. Per si durano se non sono illuminate le mani. Sono stupido. Adesso spari... No. Spari normale. Spari... Che cazzo? Eh, mi sa che ci lascio le penne qua. Qua ci lascio le penne. Più che altro se anche ci fosse... No, vabbè, se ci fosse... Satan! Muori, 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 muori. Più velocemente. Prima che tu possa sparare di nuovo, ti prego. Se muoio adesso mi girerebbero tanto alle balle. Non vedo, 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 non vedo. No! Ok. Muori. Adesso muori, adesso muori, adesso muori, adesso muori. No! Non ci credo. Sto malissimo. Il fatto mi dà dei quei grigi. Scopriamolo adesso! Sì. Mi è morto il cuore, ma sì. Se mi dai due cuori grigi. No, un altro album. No, 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 dai, che avevo anche uno di vita. Move the void, mi piace un sacco, ma non ho i cuori per prenderlo. E non voglio morire, sto giocando con Kay, non con Lazarus. Niente. Ho un cuore. 10.11 di danno. Sono nella merda. Mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo cosa riesco a tenere. Niente. Novità, volevo parlare più di altre cose, ma non è stata una rampa più easy che dice, vabbè, posso anche non cagare quello che sta succedendo e parlare invece di altro. E' abbastanza complesso, quindi purtroppo devo dedicarle... Attenzione, Ludovico Technic. È l'oggetto buono o è l'oggetto che ci uccide? Scopriamolo! Uh, Little Steven. Oh, mi fa stranissimo quello Steam Controller. Vabbè, qualcosa ci inventiamo. Psychic Frame. E un cuore rosso di cui non posso fare niente. E quello. E ho una bomba, però. E la utilizzeremo, dato che poi la recupero. Tac. E... True Space, raddoppiare le chiavi. Ok, non avremo mai più bisogno di chiavi. Non ci sono quei grigi, logicamente. Uh, gli oggetti mi fanno cacare. Ora, giusto per sapere se potrebbe mai esserci qualcosa di interessante. Il Pijama mi piace. Insomma mi dia un fottile di cuori. Ma non i soldi. Vediamo se voi mi date i soldi. No, mai una gioia. Oh no, dimenticavo quello di Controller Tears. E vabbè, già che abbiamo bombe da sprecare, a quanto pare. Ok, ricordiamoci che è un cuore eterno. Non me lo ricorderò mai. Secondo me la Ludovico potrebbe essere stata una delle più grandi cazzate mai fatte, però... Ci si prova, ma non ho altre possibilità, l'altro. Quindi... Iniziamo. Ok. Sì, è stata una delle più grandi cazzate. Mai più, mai più. Non riesco a controllarlo. Ho delle serie difficoltà. Masserissime. Gappi, 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 gappi. Dov'è la mia lacrima? Perché la stanza è anche grande, no? È lento. Perché sei lento, lacrima? Sono morto, sono morto. È il fatto. Non dovevo farlo, non dovevo farlo. Facciamo un'altra partita. Ho deciso che facciamo un'altra partita. Headless Baby. La merda. E un HP App. Beh, la merda, cioè non è sto grande oggetto, semplicemente. Mi piace quello bianco, mi sembra. Una cacca dorata. Siamo a cinque monete. Giaco quattro bombe. Facciamo anche così. Ma ho mai che mi dia una moneta, logicamente. Comunque, news, altre news. Mentre siamo qua all'inizio, dove posso anche non commentare quello che succede. 6, 7. Sì, costa 7. Non l'avevo neanche visto che mi ha salto. Speed shot, speed up. Non è quello che volevo. Ah, è quello grigio, quello che dava un aumento di danno. Vabbè. Sapete che io con i colori ho un po' di problemi. Non c'ho preso un danno, ma non c'è. In questo periodo in cui... Oh, merda. Uccidimi, guarda. Finiamola e facciamo un'altra partita. Ho capito che non era quella giusta. Glitch at baby. No, multidimensional baby. G-B-B-B-D-B-D E speed and range up. Secondo me è anche qui... Vabbè, mi piace. Forse è un po' troppo speed. Così, eh. Mi sento un po' troppo veloce. Il resto non mi piace particolarmente. Andiamo a combattere. In questo periodo in cui ho dovuto registrare, ma in realtà non ho registrato. Mea culpa. Mea grandissima culpa. In realtà ho avuto tipo solo un giorno effettivo di pausa ed è per quello che non ho voluto registrare quel giorno di pausa perché è tipo il mio primo giorno di pausa da tanto tempo a questa parte. E ho detto... Io sono sempre stato un appassionato di MMORPG. Morpg. Chiamateli come volete, MMORPG. Solo che non ho mai trovato qualcosa che mi soddisfaccesse, si può dire, che lui sì. Particolarmente. E ho detto, boh, già che c'è un periodo di prova perché non proviamo EVE Online? E devo dire che forse è quello che ho sempre cercato. Cioè io ho sempre cercato magari una chiave più classica per un MMORPG classico, del tipo... Cioè, classica meditazione fantasy, un po' la Dungeons & Dragons, cose simili. Voilà, World of Warcraft. World of Warcraft, se volete. Nel senso del... Classico mondo. Però con le caratteristiche di EVE. Questo mondo permanente in cui effettivamente... È vivo, è vero. Cioè, i giocatori hanno influenze su altri giocatori. Se voglio fare una certa cosa, influenzo l'economia. Se, logicamente, è in un mondo fantasy che sia diverso. Quindi, non so... Quando vedi uno di un certo tipo sai che quello è uno con i controcoglioni, che magari... Cioè, non lo so. Comunque è una storiaccia... Non lo so per spiegare brevemente. Cosa è il mio... Quale sarebbe il mio MMORPG da sogno. E niente, mi ha dato estima soddisfazione. Solo che il canone mensile mi dà un po' meno soddisfazione. Tuttavia c'è la possibilità di comprare con i soldi in-game una prolunga, in pratica, del tempo di gioco. Solo che col trial è praticamente impossibile. Però, finora ci ho giocato due giorni, quindi non è niente di che. Però, magari, se vedo che continui ad appassionarmi potrei pensare di fare tre mesi e poi... Uscire, sperare di uscire a comprare il mio tempo di gioco in-game. Non lo so. Non lo so perché io non ho tempo per fare niente. Quella lì è più un'attività passiva, da dire... Me la metto lì a farlo così quando ho due minuti di tempo, ma voglio anche staccare il cervello. Quindi non è che dici ruba tempo alle registrazioni, perché è proprio una questione diversa. Ui! Niente, non so se qualcuno di voi ci ha mai giocato può consigliarmi, può darmi la sua opinione. Sono sicuramente felice di ascoltarvi. Ho voluto fare una grid mode perché recentemente, sentendo gli altri ragazzi dell'IndieBank, soprattutto ZNR, che si stanno dedicando un sacco alla grid mode per sbloccare quello che si sblocca con la grid mode, e ZNR credo sia arrivato fino in fondo e Mac c'è quasi, solo che ci manda continuamente video divertenti su come, nonostante abbia tipo il 2% di possibilità che si blocchi la donation machine, puntualmente si blocca dopo tre donazioni. Per lui è molto divertente, per lui è molto frustrante, immagino che abbia un rapporto complicato con la religione in questo periodo. mi conviene eliminare i nemicini, merda. Niente, comunque mi sto... Ho detto, voglio recuperare un po', d'altronde questa è una modalità dove si possono sbloccare un sacco di cose interessanti, se si riesce ad arrivare in fondo, ora non credo che arrivano in fondo, però mi piacerebbe riuscire a fare un po' di strada, riuscire a sbloccare qualcosa in più e intanto approfittarne per sbloccare, dato che non mi va proprio di farlo offline, tempo per fare una live non ce l'ho, e bene o male una grid è di solito una partita che va quasi sempre colpo sicuro, a quanto pare, come non si applicano questi criteri. Capì. Mi piace quando mi chiamo gli oggetti. Mi piace tantissimo quando mi chiamo gli oggetti. Non è candle? Potrebbe non dispiacermi, perché spesso ho capito ad avere una maledizione, per di più dovrebbe darmi anche dei cuori. Sì, un cuore nero. Facciamo così. Merda, mi serviva una moneta per... Merda. Magari c'è una moneta qua dentro. E invece c'è un cuore nero, vabbè? Quindi finché c'ho il danno, mi sono incastrato, prendi ed esci. Ok. Volevo riuscire a farlo ancora, diciamo, in invincibili... Volevo comprare la chiave con le 5 monete. Nel frammento di invincibilità che c'era. Nell'uscita della... Cursor, ma non ce l'ho fatta. Questo video durerà tantissimo, devo sbrigarmi di più. Vediamo di velocizzare il più possibile questo video. E niente, devo dire che sono stato soddisfatto, dai, comunque, per ora. Poi magari diventa una cosa assolutamente ripetitiva e non soddisfacente, però invece mi sa che non... E' per i palati fini, nel senso che... Mi piace questo. 2.83 al danno, mi piace un sacco. E rate of fire. Tears push up speed up. Mi piace un sacco. Questo è tutto DPS che aumenta. Che è quello che ci serve. Qua sopra mi servirebbe una chiave. Uh, HPP damage up, buono. Vabbè, andiamo a farlo andate. Molto buono. Guardate che bello. Quasi one shot tutto. Quasi one shot tutto, sembra che abbia fuso due parole a zero. Mi sta andando proprio via la voce. Forse non sono neanche più tanto abituato a parlare. Sì, in effetti, stare chiuso in casa a studiare non aiuta. Non facilita, di certo, la socialità, senza dubbio. E anche le interazioni, nel senso, le azioni fisiche che comportate dalle interazioni, tipo parlare, quindi avere una gola funzionante. Come Mac, solo che Mac genere sempre in forma, no? Infatti è un po' acciaccato e fa dei video un po' al limite della sopravvivenza. Lo sentiamo un po' affaticato, piccino. Dategli a dare tanto amore ai suoi video. Alla sua serie di shipwreck. Non star shipwreck, l'hai iniziato. E... Dategli supporto, piccino, che non ha più voce. Ok. Non so come ha fatto. Mi sono palesemente schiantato sopra, ma palesemente. Cosa potrei voler ottenere da questa RAM? Gappi? Mi dispiaciuto un sacco per la RAM precedente. Dai, bullshit, mi sei spawnato in faccia. Bastarda, maledetta. Potrei volere... Boh. Intanto un oggetto di Gappi al primo piano non è male. Solo che mi sarebbe piaciuto di più l'altro. Cioè, nell'altra RAM, che già sembrava ben impostata. ecco. HP più damage up? Mi piace. Quello grigio non so se lo voglio. Andiamo a far satana? Sì, andiamo a far satana. Ok. Sto stare attento a quello che... che spara il brimstone. A dover far danno e ucciderli velocemente. Mi dà più soddisfazione, nonostante avessi più danno nella RAM precedente. Mi sento più soddisfatto da questa RAM. perché mi dà proprio... Forse sono i chiodi. Mi danno proprio l'idea di dire gli sto facendo male. Cosa che nell'altra RAM non capitava. Nonostante avessi un danno enorme. E Ludovico è stata poi la... la scelta peggiore che potessi fare. Forse non è proprio il massimo... Forse non sono io che sono abituato ad utilizzare Ludovico. Ma col trackpad del Steam Controller la Ludovico Technic forse non è il massimo. Patto con l'angelo? Oh... Servono chiavi lì, vero? Ah, è riuscito anche a non prendere il danno. Merda. Sono uscito... Ah no, non servono chiavi. Comunque adesso ho chiavi. Questi scrigni potrebbero essere stati una benedizione divina. Uhuh, mi piace. Mamma mia. Si ha benedetto il patto con l'angelo. E questo è già un HP app. Si richiude! Ho troppo culo! Ah, però forse... Però ho cinque chiavi. Le utilizzerò cinque chiavi. Mi sa di no. Quindi tanto vale che tengo la clipstick e non mi ricordo neanche cosa faccia, però... Basta. L'ho consumato. Ah, questo subito. Ho avuto così sfiga? Vediamo di rifarci di quello che abbiamo perso prima. Ora, non che volare sia una cosa particolarmente... Cretino. Particolarmente utile. Però non mi serve neanche prendere la chiave perché non ho un DCX con cui rinrollarla. Ci lasciamo lì quello? Ho già tre chiavi. Sono già scese così tanto? Ma sì, facciamo così. E... Curse room che prendo solo mezzo danno. Ecco cosa serve volare. Ragni, grazie. E ho 26 chiavi. C'è qualcosa di interessante? No. Vediamo al prossimo. Ho 26 chiavi, 26 monete. Volo però. Quindi questo me lo apro ed è Golden Horse Shoe Feel Lucky? Prendiamolo. Non so cosa faccia però. È dorato. Ah, però qua c'è la macchinetta per rinrollare. Quindi fermi tutti. Io ho 4 bombe, tra l'altro. Intanto faccio anche così. 2 monete. Finalmente, delle monete. Ehm... Rigolliamo. Blood Colt. Massi Epic Featus. Calma, calma, calma. Devo imparare a gestirlo meglio. Blood Cloth? Perché no? Damage Pure End Drop. Sono curioso. Ok. Devo prenderci un po' la mano. Non vorrei aver fatto la cazzata con Ludovico però almeno volando forse posso ripararmi da qualche parte. Il resto mi interessa... No, però volendo poter rinrollare. Devo stare attento perché col trackpad non ho proprio l'ottimo controllo che avevo prima. Ehm... Vabbè. Andiamo giù. Così io posso rinrollare infinitamente se ci sono cose da rinrollare. Ehm... Però ho bisogno di soldi. Intanto quella usa c'era in pillole. Ok. Andiamo avanti. Ok. Sì. Devo... Forse avessi una rete a fare un pochino più alta sarebbe meglio. Ci dobbiamo prendere un attimo le misure. Vediamo. Ah, lockdown. Qualcosa che avrò è un po' di luck non che fosse praticamente utile dato che non ho effetti. Però. Un cuore nero. No. Un nemico a quanto pare. Che non c'è più. Vabbè. Intanto già che siamo qua. Mi piace. Retro fire up. Mi piace questa chiave che prendo a gratis. Mi piace. Vuoi che vi esplode. Magari mi date tante monete. Figuriamoci. Figuriamoci se mi davano monete. Uh. Anche quello a 7 dato che raddoppia gli effetti e praticamente vuol dire che è come se sponassi due volte le cose che mi darebbe la testa di cappe. Cioè. Come se sassi due volte di fila. Quindi con la 15 però lo prendi dopo anche il D6. Non è ma... No. In realtà non mi serve una minchia. Mi servirebbe solo nella Curse Room. Io prenderei questo. Guarda l'all charge. E Blank Card. che con il Drew of Diamonds è tipo l'oggetto che ti rompe la partita. Sì. Interessante. Ci riferiamo. Ehm. Vediamo gli oggetti. Non ho ancora visto gli oggetti. Questo è The Direc. Cruising Power. In teoria potrei avercelo. Un range up perché non so cosa mi serve. Niente tipo. Ehm. Beh. già che non prendiamo danno d'entrata. Entriamoci. Due chiavi. E... Cuore nero? No. Va bene. Possiamo incominciare. Abbiamo già 32 minuti di video presso un po' troppo tempo. Ok. Sì. Dove esponare il doppio del moschio perlomeno come se usassi due volte l'oggetto. E siccome lo posso usare ad un'istanza viene abbastanza bene. Ok. Devo ricordarmi di usarlo. Però sì. Guardate quante mosche. Buono. Mi piace un sacco. Forse ho fatto la scelta giusta. Anche se poi non è che venga particolarmente più utile nel boss fight contro coso? Come si chiama? Ultra Mega Super Grid. Non si chiama così. Eh lo so. Stavo per andare in bocca al colpo. Sì. Vorrei non usare tutte le mosche però va bene. Se lo volete fare voi per me va bene. Mi sono perso il mio colpo. Mi sa che il Dead Eye e la Cruiser Bank Power non funge. Però forse devo mettere a segno più colpi. No. Non vedo un aumento di danno. Ma dai. Ok. Sei già morto. Ok. Ah le mosche. Hanno fatto le mosche. Dimenticavo. Andiamo da Satana prima già che siamo qua. Che fai? Non vai da Satana? Ok. Gli odio questi perché hanno troppa vita. Io non ho tutto sto danno pazzesco però se vi mettete vicini mi fate un favore? Riuscite a colpirvi tutte e due che non vedo perché la stanza è grande. Ok. Qualcuno è già morto. E uno è morto. L'altro si muove troppo per i miei gusti però l'ho colpito lo stesso. Ok. Satana. Secondo oggetto di Gappi. E magari c'è un terzo oggetto nella cassa? Io ci spero. No. C'è una cassa che mi porta qua. E ragni. Ok. Beh siamo a due su tre quindi non disperiamo. 28 monete volevo prendere Squeezie. Sì. Che sono due quei grigi e un arito fire up. Tutto. Mi mancano due monete che non otterrò per prendere la blank card. Stiamocene così. Tutto sommato va abbastanza bene. Mi piace l'idea perlomeno per le ondate di poter spawnare il doppio delle delle mosche. Di Empress mi dà l'effetto di War of Babylon se non sbaglio quindi teniamocelo magari per grid se ci arriviamo. Ormai non do più niente per scontato. Siamo nel Womba dove è finita male l'altra volta. Non mi ricordo minimamente cosa sia quell'oggetto ma immagino che spawnino ragni. immagino proprio di sì e un rate of fire up. Tears up. Che non ho visto funzionare. Comunque forse siamo già al minimo a 5. Sì. Take prestige se vuoi capire di mamma preferisco l'altro. e wii. Vabbè tant'è sono riuscito a prendere l'altro. Bats Baby potrebbe venire utile. Non so se voglio spendereci effettivamente. Vogliamo spendereci? Spendiamoci. BFF non ho cioè mi servirebbe più Hive Mind quello si creerebbe utile. A parte che Hive Mind potrei ottenerlo semplicemente facendo rirollare continuamente la macchinetta. Scusate già che non mi interessa posso fare un riroll. Giusto? Sì. C'è di merda quindi posso rirollare ulteriormente. Chaos Chaos io conto su dita per diventare grappi. Quindi vediamo di fare tutto ben bene per diventare grappi. Qua non mi potete raggiungere. mentre io con i miei razzi e le mie mosche posso raggiungervi ovunque. Anche se voi nemici ammazzabili in due oddio rosso su rosso non vedo il coso. In due passate potreste essere un problema. Perché devo centrare oh merda questo vola. Stavo dormendo un po' sugli allori. Giusto un pelo eh. Calma 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 le mie mosche non possono far tutto possono far tanto senza dubbio. Ok abbiamo eliminato gli inseguitori e il charge baby sta facendo il suo lavoro. Ok take care rotoli caos è anche in saldo a 7 o sbaglio mi sa di sì no voi vi odio non vi riuscirò mai a uccidere se non con le mosche siete già morti scusate chiedo scusa ritiro tutto quello che ho detto ehm caos è la mia carta magica per diventare grappi la mia carta si vabbè di habit mi piace l'idea tra l'altro perché ehm anche rolliever mi piace è un sacco però di habit vuol dire che ogni volta che prendo danno mi ricarica l'oggetto e aver supponendo di prendere danni con ultra grid che è stra probabile ehm potrebbe venire bene per usare la testa di gappi a meno che io sia gappi ehm gappi scala con epic fetus perché sto facendo tante segmentali su gappi ma magari non scala boh boh vediamo cosa otteniamo di monete se non scalasse conviene comunque prendere l'abito da suora perché basta ah c'è un ragno 20 secondi per uccidere un ragno oh the bloat sei te che mi hai fottuto no non eri neanche te ad avermi fottuto o forse si no è stata l'ondata che stupido the bloat bisogna stare lì sopra l'unica cosa che si impara ok a questo era quello normale ho i soldi quindi entriamo se ti prendiamo habit e aspetta calma perché raw liver mi piace però non riuscivo mai a prenderlo non ci sono soldi lì è skolex due skolex e tutte le mie mosche sono andate a schiantarsi contro la loro parte invincibile giustamente ok uno l'ho beccato bella due l'ho beccato quindi sono due colpi a testa infatti merda mancato si si è morto si è morto voilà la merda non dovevo prendere l'hausta dovevo prenderlo dopo l'acqua santa un cuore no sebbene io sia un entusiasta dei patti con satan nel senso di prendere tutti a caso no oh crawled space che mi da la ci senti cross che non mi ricordo che lo faccio you feel blessed va bene me ne sto e basta mi sa che ce ne andiamo giù beh ci siamo quasi 40 minuti però non era anche poteva durare nei 20 però ci siamo quasi stupitemi poison tears non male sacrifical dagger non mi dispiace neanche dato che io non sparo quindi non riesco a tenere nemici sotto controllo avere qualcosa che mi orbita attorno che fa un bel po' di danno non è male raddoppia l'attiva quindi praticamente è quello che fa già oh non ho visto il fuoco tra un po' mi ci schiantavo niente voi un cuore nero me lo date no figuriamoci 2 troll bomb è una bomba ah dimenticavo nons of the habit 10 monete continuo nons of the habit non vuol dire niente qui c'è la mia trasformazione in gappi e lì c'è abaddon abaddon ti prendo dopo a meno che fatevi fare due calcoli innanzitutto però facciamolo ah la pokeball mi fa cagare niente e poi torniamo anzi poi vediamo com'è satana in pratica ah però satana non ha detto che ci sia cosa di satana nel senso quindi a mosche ne ho tipo un po' ne ho spawnate quel 250 milioni continuo a spawnare a mosche basta che non si schiantino contro le maschere se no e ok sto facendo i calcoli perchè stavo pensando in pratica di ok siete qua di 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 solo che se non li perdo cioè vabbè poi abaddon mi da un full vita comunque di odio questi qui sono alcuni tra i miei nemici più odiati aggiunti con afterbirth i fantasmi che scompaiono col brimstone non ho preso neanche un danno non mi piace cioè cioè non è che non mi piace mi piace però avessi non avessi preso avessi preso danno almeno sarei più giustificato nell'arco di abaddon poi abaddon non è solo sostituzione di cuore ma anche un damage up quindi ha senso nel senso ha senso nel senso cioè ok facciamo satana già che siamo qua si facciamo così almeno un cuore ce lo investiamo la satana magari c'è krampus e mi da non lo so perché se mi desse lamp of coal non so se scala con non c'è krampus due cuori neri e abaddon comincia a perdere sempre di più utilità però è anche un damage up mi calda poco in teoria io ho 30 monete a pokeball non mi interessa potrei aver fatto una porcata a invertire tutti i cuori no perché tanto me li suotava abaddon boh se l'entia abaddon si prende ho deciso e saliamo di eh un po' 1.39 e lamp of coal che non so se scala prima di continuare a spendere monete due monete lamp of coal oppure rirollo vabbè gioco 15 monete cos'è l'oggetto che se lo vedessi direi si di corsa un oggetto del patto con l'angelo sai senti riroliamo finchè non trovo l'oggetto ok c'è bob's brain che si di corsa mentre lo dirò è un oggetto che si di corsa per davvero in questo momento adesso il gatto morto sarebbe l'oggetto che si di corsa per davvero però non ce n'è bisogno in realtà quindi no vabbè quello è un damage up ma io voglio l'oggetto hive mind yes va bene ho deciso la mia decisione è stata presa e andiamo giù sei curioso cioè se uno continua a rirollare dopo un po' torna gli stessi oggetti oppure si suota al pool e quindi comparino solo breakfast sei curioso di capire questo ultimo piano prima di maxi mega grid un giorno imparerò che cosa perché non è ultra grid o si no ultra grid non è quello normale sicuramente sto per prendere quel grigio senza potere sto per dire sicuramente esponeranno nemici invece no ottimo sempre meglio vabbè due monete gli oggetti di gappi a quanto pare piacciono tanto allo shop prima la gappi stena faccia meno l'altra potrei prenderlo vorrei avere nove vite nove vite però avrebbe avuto senso solo se mi fossi portato dietro no non volevo darti soldi testa di minchia mi fossi portato dietro la la zampa di gappi vabbè vediamo cosa ci offre prossimamente no quindi direi che non scompare pandora's box non l'ho già usato forse era la rampa precedente boss brain come dire ti guarda che io sono sempre con l'amico mio no no il d4 con la manco se mi pagate lo prendo in questo momento ah ho rotto la tummy z che si ricarica ogni volta mi farbbe sparare troppi colpi interessante interessante vediamo mi sono già schiantato e posso bene o male che ok che facendomi del male riutilizzo l'abilità e ok che ho hive mind e tante mosche però cerchiamo di non farci del male c'è un cuore grigio dentro la la stanza segreta a parte che essendoci già entrato l'ho già perso pensate se ci fosse un oggetto che rende le mosche tangibili e quindi che fanno effettivamente d'ascurre i colpi nemici cioè io in questo momento sarei immortale cioè in pratica sto accumulando le mosche sperando di riuscire a portarmene fin da grid tengo lontano dei nemici io voglio accumulare troppe mosche che arrivo e grid piange si fa male pensavo le mosche se io usassi di emperus una volta entrato essendo le mosche il doppio del mio danno ecco già ho perso tutte le mosche che tentavo di tenere con così tanta attenzione Sud of War of Babylon aumenta anche il loro danno anche se ci sono già nel senso loro non è che le spawno dopo poi le spawnerò anche non ho visto se si generano vediamo no non riesco a capire se le genero con gappi mi sa di no mi sa che non stacca boh comunque abbiamo la gappi sed che nel caso in cui si sa mai boss si angelo maledetto che mi ha fatto tanto penare precedentemente e stavolta è morto in 448 logicamente perché la situazione era un pelo diversa giusto un pelo vabbè spavano altre mosche vediamo questo lato positivo minimo morti tutti e andiamo anche la satana già che siamo qua non ci costa niente anche se non ha neanche senso a meno che sia un patto con l'angelo ma neanche il patto con l'angelo a quanto pare sarà mischiato anche quel pool danni ok satana stupiscimi crampus che non è detto che mi dia lamp of call o si o lui è si è fisso con lamp of call in teoria non è detto che mi dia la crampus e la lamp of call quello lo intendevo non ci sono quei grigi si c'è uno qua dentro e andiamo giù siamo pronti per la boss fare il finale dovrebbe andare dire di sì ma non non vendrei la pelle della loro soppina per l'ho preso ho preso un sacco di danni non è facile gestire abilità che sono simili a quelle da Ludovico Technique dove l'attacco è separato dal movimento vediamo speriamo di uscire ci abbiamo 31 monete non ho minimamente pensato alle monete quello è il problema e meno male che ci pensano alla fine a tirarmi un po' su di morale con 25 monete in realtà uno nella grid doveva arrivare in fondo con 99 monete ed è una cosa che è ultra grid una cosa che io non riesco a fare mi chiedo scusa allora di Empress ok una cosa no 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 le monete devo prenderle perché sennò le prende lui e si ricarica la vita i ragni sono forse il mio talone da kill perché si avvicinano sono veloci e mi fanno danno perché io non posso colpire vicino a me oppure posso ma mi faccio male non mi piacciono tutte queste bombe ok e trant'è sono riuscito a colpirmi perché ah mi ha lasciato monete perché sono quelle di grid Bat Penny what the hell no questa è la vita che prenderà perché non riesco a distruggere la prima ah non ho usato però sono stato stupido quando ho preso danno non ho usato la HP Z che è l'unica cosa che dovrei fare tipo no non volevo far saltare in aria le bombe ma volevo colpire te comunque non non sembra essere una boss fire particolarmente ardua eh in teoria poi vai capire si sarà lunga comunque la batteria probabilmente mi ha lasciato il mio amichetto anche se non sto spawnando particolarmente tante mosche odio quando si ripara beh allora ammazzo i tuoi amichetti così sei più felice bravo mio caro Ultragrid e le tue chiappette sodissime ammazzo stanno diventando un meme anche su internet le chiappe di Ultragrid no vita che recupererai forse qualcosa riesco non voglio batpenny ma forse devo smettere di perdere tempo dietro magari le chiavi le distruggiamo una una società le distruggiamo vabbè tanto i nemici hanno vita breve in teoria il problema è che si è uscita da tutte le parti io per sono circondato e vabbè comunque è una rank e vinco però non è particolarmente soddisfacente spero di ottenere qualcosa di più in una rank di questo tipo ma ci accontentiamo nel senso non ci lamentiamo troppo vabbè dai un pochino di chiavi forse una è scampata bene mi va bene anche essere colpito se le mie moschine vanno a segno anche se in realtà le bombe di Dr. Fitus la smette di spawnare chiavi dovrebbero fare più danno di una mosca quindi non è che fanno proporzionato Dr. Fitus perché Dr. Fitus è proporzionato al danno e anche le mosche sono proporzionate al danno ma il danno contato non è quello di Dr. Fitus che palle eh ho perso un po' tanta vita non me ne sono accorto devo stare attento ok ricomincio a fare la persona seria non me ne ho minimamente accorto e mi sono sparato un razzo nella gengiva appena detto ricomincio a fare la persona seria quante volte sta spawnando a nemici non l'ha mai fatto cioè le chiavi dico come nemici smettila di prendere trinket che perdi tempo merda 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 non mi piace 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 lui si para voglio dire che porca Eva è un turno perso ogni volta che mi fermo cosa mi sta facendo danno non t'ho visto oh merda oh merda oh merda non morire adesso non morire adesso non morire adesso non morire adesso non ora è spawnato 200 nemici potrei morire ora sono morto no dai no 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 bullshitt bullshitt no perché youtube mi odia quando faccio le partite per conto mio va tutto bene e poi mi propinano queste cose qua non ho parole davvero non ho parole in ogni caso spero vi sia piaciuto l'episodio se vi è piaciuto mettete mi piace condividete con i amici che possono pensare di genere e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti